Avrebbero comprato i semi su internet e poi si erano messi a coltivare marijuana in casa trasformando una camera in una piccola serra. Intanto i carabinieri aspettavano che le piante maturassero per far scattare poi il blitz, le manette e i polsi di padre e figlio di Palermo. Angelo Mattiolo di 63 anni ed il figlio Ivan Mattiolo di 22 anni sono stati sorpresi a casa mentre con un bilangino di precisione pesavano e confezionavano l'erba pronta ad essere spacciata. Durante la perquisizione sono state sequestrate 6 piante di cannabis alte circa un metro e mezzo, 20 involucri contenenti marijuana del peso complessivo di 300 grammi circa e un panetto di 100 grammi di hashish. I due arrestati sono stati rinchiusi a Lucerdone. La coltivazione indorno di marijuana è in continuo aumento anche in Sicilia. Favorita dal fatto sostengono i carabinieri che attualmente è possibile comprare semi liberamente anche su siti internet e riviste che spiegano dettagliatamente come impiantare e sviluppare una piantagione con costi esigui. Inoltre a sostegno di quanti coltivano cannabis è intervenuta una recente sentenza della Corte di Cassazione che dice che sin quando la pianta non ha raggiunto la sua maturazione completa non può essere oggetto di azioni penali. Grazie a tutti.